ciao a tutti ragazzi e ragazze ricostruvate in questo nuovo video secondo round dei saldi di pandora ci sono altri due pezzi che abbiamo preso come esattamente la volta scorsa del video in cui fece lei io non c'ero perché il lavoro quindi andiamo a vedere subito cosa ha preso ok ragazzi questo è il sacchettino perché questa volta l'abbiamo preso poi in giocheria questo è il sacchettino nuovo di pandora che hanno fatto vedete fatto in questo modo tutta rosa ovviamente io lo tengo ragazzi perché faccio la collezione anche di questa roba e se prendevate un bracciale vi dava la confezione quella che si tira non c'è più la scatolina bianca famosa ma c'è un'altra confezione che si tira a modi cassetto e all'interno vi mettono dentro il braccialo a me ma non ho preso un braccialo ho preso altre cose mi hanno dato le scatoline quelle classiche ho preso anche il catalogo nuovo dove vabbè vi faccio vedere giusto così una carrellata veloce perché comunque i pezzi sono sempre quelli allora vi faccio vedere magari qualche novità se c'è allora questa era la novità di natale vedete c'era tipo la tazzina questa qua che io c'è la stellina che ho c'era l'alberello nuovo la renna insomma un po di cosine nuove ci sono poi vabbè ci sono questi qua un po di combinazioni vi fanno vedere poi c'è il pendente o anche lui stupendo c'era la collezione nuova di cenerentola e anche la collezione disney mini e tocco questi sono i classici bracciali hanno fatto questo con la nuova chiusura anziché a barilotto fatta così questa chiusura qua mo di bracciale tiffany queste vabbè ci sono queste sono quelle vecchie diciamo classiche queste idem classiche poi c'è questa qui a codina di topo questi qua rigidi e qua ci sono tutti i charm che bene o male sono sempre gli stessi a parte questo qui tipo che è una novità lucchetto a cuore questi qua vabbè sono i classici che ci sono sempre poi qua cosa abbiamo novità vediamo se c'è qualche novità qui no questi sono quelli semplici no qualcuno me li ricordano anch'io nonostante non sia probabilmente la mia organizzazione neanche se sono sempre quelli praticamente ha novità ecco di natale appunto quello che vi ho fatto vedere prima l'ognomino e no questo cos'è babbo natale e la renna e l'albero queste sono le novità di natale poi cosa abbiamo qua questi ci sono sempre questo qui mi è rimasto sempre in gola che non ho mai preso qua ci sono le morrine addirittura hanno rimesso la morrina giardino incantato che io ne ho due tra l'altro anche poi tra l'altro non ve l'ho fatta vedere poi ve la faccio vedere qui ci sono i segni dello zodiaco sempre gli stessi qua ci sono le lettere sempre quelle idem con patate di qua solita roba dove avete scritto novità c'è appunto novità novità eccoli qua questi qui sono appunto le due novità lunestelle dormienti cielo blu notturno ornamento natalizio anche queste novità vabbè comunque ragazzi questo bene o male il catalogo qua ci sono sempre le stesse cose qui ci sono le clip abbiamo questa come novità basta queste sono le classiche qua ci sono le classiche chiusure di sicurezza catene di sicurezza questo qua bellissimo poi abbiamo questi altri bracciali qui questo è stupendo orecchini ci sono questi qui e questi qui come novità non ci sono novità per quanto riguarda le collane esatto gli orecchini ho solo questi di pandora i cuori regali di novità invece per quanto riguarda la disney abbiamo visto anche gli anelli ragazzi ma non c'è niente lì che sono sempre gli stessi abbiamo disney mickey mouse e mini con il pacchettino regalo di natale e pluto sempre per quanto riguarda il natale allora abbiamo visto tutto il catalogo ragazzi ma di altro praticamente pandora mi sono sempre gli stessi poi c'era reflection sempre la stessa roba insomma adesso andiamo a vedere cosa abbiamo preso prendiamo la pesca prendiamo questo qui piccolino 3 2 1 voilà allora abbiamo preso questo cuoricino vedete fuori produzione fuori produzione ultimo pezzo che avevano che mi ha detto che per il periodo di natale questo pezzo è andato praticamente a ruba adesso vi prendo il charm bar così ve lo faccio vedere meglio allora vedete qui davanti a la o di pandora più appunto la scritta pandora fatto a cuoricino dietro è fatto in questo modo con tra l'altro non l'avevo visto da dietro questo è un charm particolare dedicato alla famiglia perché questo si apre con scritto yes all'interno perché ragazzi ha il solitario vendente ovviamente il solitario si fa come diciamo proposta di matrimonio e quindi appunto all'interno abbiamo questo questo qua appunto è il charmino ragazzi questo secondo me è uno tra i più belli tra l'altro questo è un charm che hanno rifatto perché prima vendevano lo stesso pezzo che si apriva l'unica cosa che all'interno invece che esserci il solitario pendente c'era il solitario d'oro incastonato all'interno pensavo ci mettevano l'asso di picca all'interno e questo appunto è il charmino abbiamo quest'ultimo pezzo ovvero questo allora ho preso questo anellino da abbinare o qua con la fede oppure con l'anello con la pietra grande bianca che vi ho fatto vedere nell'altro video da mettere appunto assieme e niente ragazzi questa è una misura 54 questa è la pietra è la pietra azzurra sfaccettata vedete c'erano di tutti i colori c'era il viola c'era il verde che questi mi sembra che addirittura erano le pietre del mese c'era bianco insomma c'erano un sacco di colori allora questo è il braccialetto dedicato alla disney allora vi faccio vedere le due morrine queste qui anzitutto abbiamo messo lo stregatto le due morrine che poi vi faccio vedere dopo mrs brick il pendentino di jack e minu allora perché vi faccio vedere le due morrine queste qua ho una o l'altra adesso non ricordo le avevo presa con i saldi mi sembra prima di questi qua quindi mi sembra con gli estivi avevo preso appunto questa morrina qui giardino incantato e avevo preso anche mrs brick ma per natale allora questi due mi sono stati regalati da marco mentre questa qui mi è arrivata per natale da mio padre io non lo sapevo infatti alla fine mi sono ritrovata con due morrine eccole qua praticamente sono identiche l'unica cosa ragazzi se vedete questa è più piccola dell'altra vedete ma è originalissima solo che ovviamente alcune morrine vengono fuori più grandi e alcune vengono fuori un po' più piccole però sono identiche infatti se vedete secondo me questa morrina è una se non l'unica tra le più belle guardate ci sono le due apine vabbè adesso ve le faccio vedere una tanto l'altra uguale c'è la pina con appunto tutti i fiorellini all'interno vedete un'altra pina qui fatta in questo modo vedete all'interno praticamente è stata pitturata vedete all'interno troppo bella e quindi ragazzi per questo è quanto speriamo questo video vi sia piaciuto lasciate like a questo video ovviamente e dite ci sono dei commenti quale tra questi due pezzi qual è il vostro preferito si preferite la pietra appunto sfaccettato oppure l'altro pezzo ragazzi io non mi ricordo già il nome a me fa ridere perché lui vuole fare l'esperto di Pandora in realtà non lo è no ragazzi devo ancora iniziare il Pandoro e quindi va bene e allora siamo andati nella gioielleria che vi citavo anche nell'altro video ragazzi allora questa gioielleria ha un sacco di pezzi fuori produzione molto molto rifornita e c'era anche un pezzo avevano praticamente l'anellino l'anellone in realtà quello dove si possono mettere i petit memories l'unica cosa che non era scontato era a prezzo pieno ragazzi costava tanto e ho chiesto appunto se questo anello dovrebbe andare fuori produzione a me mi hanno detto di no speriamo perché conto più avanti di farci un pensierino dato che ho anche il medaglione con due pedine potrei metterci uno dove dentro vedremo e nel frattempo ho preso questi due pezzi poi appunto dovrò vedere soprattutto il charm a cuore dove abbinarlo e niente ora ho capito perché ti sei fissata con Harry Potter in medaglione tu hai creato l'horcrux certo tra l'altro c'erano anche i charm di Harry Potter che non sono scontato ok ragazzi a parte questo e a parte la sua faccia che parlando di Harry Potter diventa così noi come sempre vi mandiamo al prossimo video e mi raccomando di commentare dicendo quale tra questi due pezzi è il vostro preferito ciao ciao